Per la seconda volta in altrettante edizioni il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere è risultato uno dei 180 Dipartimenti d'eccellenza premiati dal Ministero. È una competizione lunga che parte con una valutazione complessiva della qualità della ricerca del Dipartimento e poi prevede la presentazione di un progetto. Come voglio sviluppare nei prossimi cinque anni il Dipartimento se ricevo questo finanziamento? Parliamo di circa 8 milioni da parte del Ministero più i fico finanziamenti da parte dell'Ateneo e del Dipartimento stesso per un totale, questa volta che abbiamo vinto, di oltre 11 milioni. Si possono fare diversi progetti, si può sviluppare una nuova attività, si può premiare un'attività di eccellenza del Dipartimento. Noi due volte, su due volte che siamo stati finanziati, abbiamo deciso di sviluppare nel complesso il Dipartimento, aumentare il personale docente, ricambiare chi va in pensione, fornire aiuto ai giovani ricercatori attraverso assegni di ricerca, borse di dottorato, sviluppare le infrastrutture di ricerca del Dipartimento, finanziare la ricerca. Però ci chiedono anche un progetto coerente che non si risolva in una serie di iniziative sganciate l'una dall'altra. E allora come ci proponiamo di farlo? Ogni volta individuiamo un tema di ricerca fondamentale intorno a cui aggregare queste diverse attività e richiamare la molteplicità dei docenti e delle docenti del Dipartimento, dei giovani studiosi, degli studenti, dei dottorandi, intorno a un elemento comune di riflessione. Quest'anno, questo quinquennio, abbiamo scelto il tema del disordine. Il tema al centro della nostra ricerca è viviamo in una società che si percepisce sempre più come disordinata. L'epidemia che ci ha colpito così duramente, la guerra che ci riguarda anche in questi giorni, i flussi migratori, i cambiamenti nella società nel suo complesso, spesso sono percepiti come disordine. E giusta questa percezione è una realtà, è il nostro modo di raccogliere le informazioni che stanno intorno a noi. Questo è il primo elemento di riflessione. E poi ancora, come le società del passato hanno percepito il disordine e come l'hanno gestito attraverso interventi istituzionali, creazioni di norme e versione delle norme. E infine, due grandi temi che sono al centro del nostro presente e del nostro futuro. Il cambiamento climatico, quindi la questione ecologica, e dall'altra la società delle informazioni in cui viviamo. Internet, i social media, l'intelligenza artificiale. Come questi elementi gettano delle sfide a ordinare e gestire la società, una società sempre più complessa. Questo è l'ultimo argomento. Cosa faremo concretamente? Assumeremo nuovi docenti, assumeremo giovani ricercatori, investiremo sui dottorati e sull'attività di ricerca di base, ma soprattutto il nucleo di questa nuova attività è la creazione di un centro di terza missione che si occupi di comunicare alla società civile i risultati delle nostre ricerche e di implementare l'attività di formazione continua, che è una delle grandi sfide per un dipartimento umanistico. Insomma, cinque anni di grande attività che vedono insieme la ricerca avanzata, per cui siamo stati premiati, e la quotidianità della formazione dei giovani che sono nel nostro dipartimento. È possibile essere un centro di ricerca d'eccellenza, due volte di seguito lo siamo stati, e nello stesso tempo essere un dipartimento con 12 corsi di studio e oltre 1300 studenti immatricolati all'anno. Fare la ricerca avanzata e insegnare nella didattica di base sono due attività complementari e non disgiunte. Non c'è informazione universitaria senza ricerca, ma anche la ricerca acquista importanza, ma anche, come posso dire, nuovi temi, nuovi problemi, proprio dalla quotidianità dell'insegnamento, anche ai livelli più bassi, per non parlare di quelle più alti. Fa parte di quel passaggio di mano nelle generazioni che è l'università. formare nuove generazioni per le loro attività, ma anche per rigenerare l'università del futuro. Se non siamo al centro di questo continuo passaggio di consegne tra le generazioni, l'università muore e noi vogliamo mantenerla amica.